ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei parlarvi delle 10 abitudini dei milionari ma prima di iniziare come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati quindi l'unica cosa che vi chiedo è quella di lasciare un bel like a questo video per aiutarmi con l'algoritmo di youtube iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti ma iniziamo immediatamente con il video di oggi allora ragazzi prima cosa vorrei riportarvi una frase di brian tresi che ha scritto un libro molto molto di successo abitudini da un milione di dollari lui ha detto non è facile cambiare il proprio modo di pensare e di agire ma se ci riesci puoi diventare una persona straordinaria ma quali sono ragazzi le abitudini dei milionari che cosa fanno di diverso rispetto agli altri infatti esistono una serie di abitudini che ti elencherò in questo video che possono consentirti di migliorare il tuo il tuo mindset quindi la tua predisposizione mentale thomas corley vi ricordo che dopo aver trascorso cinque anni studiando ben 177 milionari che sono partiti da zero ha identificato diverse abitudini comuni tra loro infatti lui ha riferito dalle mie ricerche ho scoperto che le abitudini quotidiane dettano quanto successo o insuccesso ci sarà nella vita di una persona e continuo affermando le abitudini sono la causa di ricchezza povertà felicità tristezza stress buone relazioni cattive relazioni buona salute o cattive condizioni di salute ma analizziamo immediatamente la frase che vi ho letto all'inizio quella di brian tresi infatti lui con il suo libro abitudini da un milione di dollari per la prima volta analizzato le abitudini di persone ricche in un libro lui partiva dal presupposto che le abitudini di una persona determinano i suoi risultati infatti in questo libro che ebbe molto successo anche altre persone dopo averlo letto si sono messe alla ricerca delle abitudini dei milionari per quanto queste abitudini possono migliorare di molto la qualità della nostra vita questo non basta per renderti libero finanziariamente quindi iniziamo ad analizzare quali sono le dieci abitudini dei milionari per cercare di capire che cosa dobbiamo fare noi per cercare di avvicinarci a quello che hanno raggiunto altre persone prima di noi allora la prima abitudine è leggere molti libri infatti i ricchi leggono ogni giorno non solo per scopi di intrattenimento ma soprattutto per aumentare le loro conoscenze o migliorare il loro stile di vita è stato scoperto infatti che i milionari leggono tre tipi principali di libri materiale relativo alla loro carriera biografia di persone di successo e libri di sviluppo e cultura personale l'88 per cento dei ricchi infatti legge 40 minuti o più al giorno per motivi di istruzione o carriera contro il 2 per cento delle persone povere il 63 per cento dei ricchi inoltre ascolta audiolibri durante il tragitto che porta al lavoro contro il 5 per cento dei poveri infatti è stato ho fatto una ricerca e ho trovato questa frase non tutti sanno che le persone di successo leggono davvero molto bill gates legge almeno 152 libri all'anno mark zuckerberg un libro ogni due settimane ilon musk ha letto due libri al giorno per diverso tempo oscio aveva una libreria di 150 mila libri e li lesse tutti phil knight fondatore della nike ama leggere tantissimi libri robin sharma passa un'ora al giorno a leggere nuovi contenuti tuttavia il 60 per cento degli italiani legge meno di un libro all'anno a scuola infatti ragazzi non c'è stato mai insegnato tutto quello che realmente ci serve nella vita perciò leggere può essere utile per trovare quelle informazioni che possono fare la differenza nella nostra vita se non sai da che libro partire o se indeciso ti consiglio di fare una ricerca online e ne troverai tantissimi secondo punto ragazzi hanno una visione personale delle cose infatti le persone ricche hanno degli obiettivi a lungo termine e seguono una visione vivono per realizzare determinati obiettivi ad esempio cristiano ronaldo ha sempre voluto diventare il calciatore più forte di tutti i tempi infatti lui non lavora per i soldi ma la sua ricchezza è una conseguenza dei risultati che ha raggiunto Bill Gates ad esempio desiderava che in ogni casa del mondo fosse presente un computer Andrew Carnegie ha fatto di tutto per lasciare al mondo una filosofia del successo i ricchi ragazzi infatti sono abituati a ragionare seguendo la loro visione la ricchezza che raggiungono è solo un effetto collaterale del fatto che la loro vita sta avendo un impatto su migliaia di persone terzo punto evitano le persone negative se sei sei nella media infatti quando ti comporti delle cinque persone con cui passi la maggior parte del tempo affermava Jim Rohn è molto importante evitare persone e influenze negative le persone di successo lo sanno infatti Corley scrive nel suo libro i ricchi sono sempre alla ricerca di individui orientati agli obiettivi ottimisti entusiasti e con un atteggiamento mentale positivo di persone benestanti e di successo l'86 per cento si associa ad altre persone di successo il 96 per cento delle persone che lottano finanziariamente rimangono con gli altri che lottano finanziariamente le persone di successo frequentano e prendono consigli da chi ha più successo di loro chi invece non ha successo si circonda di persone che si lamentano continuamente quarto punto ragazzi si alzano presto infatti alzarsi alle 5 del mattino per affrontare le prime tre cose che vuoi compiere nella tua giornata ti consente di riprendere il controllo della tua vita ti dà un senso di fiducia e ti fa sentire che tu come se tu diriga la tua vita il 44 per cento infatti si sveglia tre ore prima dell'inizio del lavoro contro il 3 per cento dei poveri ci sono tantissimi imprenditori che si svegliano molto presto ogni mattina chiunque prende l'abitudine di svegliarsi presto ha più tempo per impegnarsi in ciò che desidera infatti vi ricordo che ci sono molti studi che hanno affermato questa questo punto che vi ho appena spiegato quinto punto trovano dei riferimenti cioè dei mentori i mentori infatti partecipano regolarmente e attivamente alla tua crescita insegnandoti cosa fare e cosa non fare condividono con te preziose lezioni di vita apprese da loro stessi tramite i mentori e le loro esperienze il 93 per cento dei ricchi che aveva un mentore attribuisce il proprio successo a quella persona un mentore vi ricordo che è una persona che ha già raggiunto gli obiettivi che anche tu vuoi raggiungere qualcuno che è riuscito in passato a fare qualcosa che tu vuoi realizzare in futuro per trovare i mentori segui questi passaggi individua una persona che ha già raggiunto i risultati che desideri raggiungere passa più tempo che puoi con questa persona e ascoltalo attentamente se il tuo mentore non puoi conoscerlo di persona leggi i suoi libri guarda i suoi video ascolta le sue interviste e metti le mani su qualsiasi cosa lo riguarda individua le sue strategie principali utilizzate adattale a te e alla tua situazione sesto consiglio che vi voglio dare abitudine è che i ricchi perseguono i loro obiettivi infatti gary weirchurch una volta ha detto che il mondo in cui guadagni i tuoi soldi è più importante di quanto guadagni dopo anni di ricerche su quasi 180 milionari che sono partiti da zero corley arrivò alla stessa conclusione quando puoi guadagnare un reddito sufficiente facendo qualcosa che ti piace hai trovato il tuo scopo principale le persone ricche infatti amano il loro lavoro lo farebbero anche gratis sono riusciti a trasformare la loro passione nel loro lavoro e quindi si sentono ricchi indipendentemente dal fatto che guadagnano tanti o pochi soldi il 90 per cento dei ricchi si concentra sul raggiungimento dei loro obiettivi solo il 12 per cento dei poveri lo fa l'81 per cento dei ricchi mantiene una lista di cose da fare contro il 19 per cento dei poveri il 67 per cento dei ricchi scrive i propri obiettivi contro il 17 per cento dei poveri settima abitudine guardano poca tv chi ha successo infatti non guarda molta tv al contrario queste persone usano il loro tempo libero impegnati nello sviluppo personale nel lavoro nel volontariato nei secondi lavori e nelle attività collaterali oppure perseguendo obiettivi che li porteranno a grosse ricompense lungo la strada quanto leggiamo insieme questi dati il 67 per cento dei ricchi guarda un'ora o meno di tv ogni giorno contro il 23 per cento per i poveri il 6 per cento dei ricchi guarda spesso la tv contro il 78 per cento dei poveri in frasi infatti robin sharma ha detto questa frase le persone ordinarie hanno tv enormi le persone straordinarie possiedono librerie enormi ottava abitudine gestiscono il loro denaro infatti ragazzi le persone ricche gestiscono da sé il proprio denaro risparmiano il 20 per cento del loro reddito netto e vivono con il restante 80 per cento di quel 20 per cento che mettono da parte 10 per cento almeno lo investiranno in futuro quando la somma diventerà abbastanza grande dell'80 per cento che spendono per vivere o pagare le tasse ne usano un 10 per cento per investire nella loro formazione ad esempio corsi seminari libri e altro che li possa rendere persone migliori la maggior parte delle persone invece non gestisce il proprio denaro e non lo investe nella propria formazione non abitudine hanno un atteggiamento mentale positivo infatti è stato scoperto che le persone di successo invece di vedere i problemi come difficoltà vedono i problemi come opportunità opportunità di imparare crescere e migliorare infatti corley nota che se ti fermi ad ascoltare i ti renderai conto che la maggior parte sono negativi e non affermano delle verità assolute ma danno solo voce alle tue paure l'84 per cento dei ricchi infatti crede che le buone abitudini creino opportunità contro il 4 per cento dei poveri il 76 per cento dei ricchi crede che le cattive abitudini creino una fortuna negativa contro il 9 per cento dei poveri ultima abitudine ragazzi aiutano gli altri infatti una delle sei regole di successo di arnold schwarzenegger dice qualunque sia il percorso che intraprendi nella tua vita devi sempre trovare il tempo per aiutare gli altri quindi ragazzi vi lascio con questa frase di arnold schwarzenegger per farvi riflettere su tutti questi dieci punti che sono abitudini seguite dai milionari io vi ricordo comunque che fate sempre le vostre analisi quando andrete ad investire perché poi dalle dieci abitudini sicuramente capirete che una parte del vostro reddito va investita vi ricordo di lasciare un commento a questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti